Davide, taglia a pietra, sul palco, Luca Scarpa, Chiavenova e Christian Rigato ragazzi Super bello Ok, ho già visto? Eccoli lì, gli amici ai quali voglio dedicare la prossima canzone che sono gli amici dell'Avis che portano avanti un lavoro nobile e di grandissimo, grandissimo, grandissimo aiuto e di importanza in tutto il bene d'oggi, giusto dove venite oggi? Benvenuto, il porto il porto, il porto, il porto, il porto, sicuramente c'è anche Venenzi, c'è Perola, c'è Perluno, c'è Romino c'è insomma tantissimi di anni, sono anni che aiuto con la mia piccolissima percentuale di aiuto quel poco che posso fare a diffondere l'importanza del messaggio della donazione del sangue fuori dal palazzetto li avete trovati, li ritroverete, chiedete informazioni e magari scoprirete che si è nelle condizioni di salute per poter dedicare 5 minuti, 10 minuti alla donazione di una piccolissima quantità diciamo che però cambia in maniera significativa la vita di un'altra persona però pensate, perché è molto molto semplice, ci sono anche il Veneto, una delle regioni che dona più sangue in tutta Italia questo vi rende un'ora, però insomma, parliamo anche alle nuove generazioni se si vuoi grazie all'Avis, un bacio, questa è una deriva grazie all'Avis, un bacio, questa è un bacio, questa è un bacio, questa è una della